Buon pomeriggio, bentrovati. C'è qualche discrezione che riguarda Massimiliano Allegri di Juventus la situazione per due. L'abbiamo anticipato, detto più volte, è arrivato anche il direttore del Corriere dello Sport che in una trasmissione a pressing ha detto Allegri vuole lasciare Juventus a fine stagione. Premessa, qualche discrezione da un incontro di Calvo con Antonio Conte a Conti Fatti. Questo sembra non aver scatenato reazioni positive in Allegri, però credo che comunque sia alla fine del suo tempo. Lo abbiamo detto più volte e forse soltanto Antonio Conte potrà ridare quella juventinità che manca. La squadra sta sì dando delle sempre seconde discrezioni interne, una grossa mano a Massimiliano Allegri osservando i suoi dettami e le sue regole, però c'è un però perché come contropartita probabilmente e uso il condizionale sembrerebbe che la squadra intera sia informata del fatto che Allegri possa lasciare a fine stagione. Riprendiamo le parole del direttore del Corriere dello Sport, il tecnico nonostante un contratto che lo lega alla società bianconera sarebbe pronto ad abbandonare. È una decisione che avrebbe anche del clamoroso ma di cui Zanzaroni sembra abbastanza sicuro. A fine stagione vuole andare via, non ci sono le condizioni per rimanere. Lui appartiene a una Juventus che non c'è più, sta facendo un grande lavoro con un organico ridotto, dovrebbe arrivare fra le prime quattro. Se facesse qualcosa di più alimenterebbe ulteriori rimpianti, ma questo è un problema secondario. Max fatica a ritrovarsi in una Juve diversa, poi nel calcio molte cose possono non verificarsi. Se dovessi scommettere una cifra importante, lo farei sull'addio. Non è però sicuro il direttore che allegri la segna di missioni rinunciando per l'intero l'ultimo anno. Prenderà i soldi, ma è normale che sia così. Se sono dovuti la Juventus credo che possa pagare, ma non credo neanche che sia una sua decisione quella di salutare. Vero è che i risultati sono quelli che sono e quindi prendere atto mi sembra il minimo e l'indispensabile. Quindi, come abbiamo detto, incontro di calvo alla continassa con Antonio Conte. E poi vi lascio con, prima dei ringraziamenti dovuti, con questa sparata del ministro Larussa, che è un ministro che io ho conosciuto, è anche simpatico ai tempi, però non puoi dire, io avrei voluto affossare la Juventus. Quindi grazie per averci seguito ieri in tanti nella nostra live. Spero abbiate gradito, è stato uno sforzo notevole. Stasera non ci sarà perché avremo realizzato un'intervista, se è tutto a posto, con il direttore di Tutto Sport qui a Torino Bacciago. E noi ci vediamo, come sempre, nei consueti appuntamenti, nei caffè. Partita è andata così, abbiamo portato a casa un punto, tutto da, tutto, fa finta di cambiare tutto perché tutto resti come prima e quanto, insomma, si può dire di quello che abbiamo visto ieri. Ci vediamo presto e mi raccomando, iscrivetevi al canale Allegri, addio a fine stagione e forse, entrambi sono dei forse grossi come una casa, il ritorno di Conte. Non ci dite che non ve l'avevamo detto.